In questo breve video vedremo chi sono i cosiddetti nativi digitali e la sfida che si portano al mondo della scuola. Allora, innanzitutto perché parlare di nativi digitali? In un qualunque corso che parli di tecnologia, specialmente tecnologia a scuola, occorre chiedersi sempre con chi si ha a che fare. Occorre cioè vedere e analizzare la tecnologia non tanto dal punto di vista hardware ma dal punto di vista delle ricadute sul pubblico con cui andremo a utilizzarla. E nel nostro caso sono i ragazzi cosiddetti nativi digitali. Quindi ogni discorso che abbia a che fare con la tecnologia in ambito didattico deve prioritariamente porsi il problema del pubblico a cui si rivolge. La definizione nativa digitale ha ormai molti anni e ha avuto un grande successo anche dal punto di vista editoriale. È di Mark Prensky, risale ormai a diversi anni fa, del 2001, e fa riferimento a un paper, a uno scritto proprio di Prensky, intitolato appunto Digital Natives and Digital Immigrants. Vale a dire nativi digitali e migranti digitali. Per nativi digitali si intende naturalmente coloro i quali sono nati e cresciuti in un contesto di nuove tecnologie e migranti digitali tutti gli altri, quelli cioè che si sono avvicinati col tempo alle nuove tecnologie. C'è a dire che Prensky non è un accademico a tutti gli effetti. È un uomo che ha a che fare col mondo dell'educazione, ma allo stesso tempo è scrittore e soprattutto è anche dietro all'industria dei videogiochi legata alla formazione, a quella che oggi, soprattutto oggi, si sta diffondendo col nome di gamification, cioè una formazione legata al gioco, al gioco soprattutto elettronico. Questa definizione ha avuto un grande successo dal punto di vista editoriale, tuttavia è oggi piuttosto criticata. Però prima di vedere la polemica che c'è dietro, vediamo un po' chi sono questi nativi digitali secondo Prensky. Abbiamo a che fare con dei ragazzi nati alla fine degli anni 90, primi quindi del nuovo secolo, cresciuti e formati in un ambiente fortemente condizionato alle nuove tecnologie e anche da internet. L'idea di base, in ogni caso discutibile ma interessante, è che un nativo digitale sviluppi competenze e abilità diverse dai cosiddetti immigrati digitali e che addirittura questo scenario porti a modi socializzare diversi, persino a uno sviluppo neuronale differente rispetto a quello dei migranti digitali. Questa definizione, dicevamo, ha avuto molto successo e oggi è particolarmente frequente trovare in rete e nella letteratura scientifica che significa questo famoso sintagma nativi digitali, tuttavia la definizione in sé porta anche molti dubbi. Alcuni, per esempio anche in Italia, non sono affatto convinti della bontà di questa definizione dietro la quale, secondo alcuni, non si c'è altro che un nome vuoto. In effetti lo stesso Preschi, consapevole della difficoltà di ingabbiare dentro a un solo nome un problema molto vasto, è tornato sulle sue posizioni e nel 2009 è ampliato e volendo anche complicato il concetto attraverso la definizione di saggezza digitale piuttosto che non semplicemente di nativi digitali. Al di là della polemica che c'è dietro, su alcuni punti forse possiamo essere d'accordo. I cosiddetti nativi digitali presentano delle caratteristiche. Per esempio, sono particolarmente abili con gli strumenti tecnologici, pensiamo a tablet, smartphone, riescono a gestire operazioni multiple, da cui il termine multitasking, più operazioni contemporaneamente, manifestano maggiori attitudini collaborative, anche se queste attitudini molto spesso vengono canalizzate attraverso strumenti social, manifestano, e questo è uno degli aspetti più interessanti, un pensiero non più lineare e sequenziale, ma si dice ipertestuale puntiforme, vale a dire il loro paradigma non è più il libro, che è sequenziale, lineare, pensiamo alle pagine, ma è il link, il loro paradigma, vale a dire il salto, l'ipertesto, il puntiforme. E questo è un aspetto su cui effettivamente è bene porre l'attenzione quando si progettano scenari didattici. E poi, un'ultima caratteristica è quella che rilevano soprattutto i migranti digitali, sta nel fatto che questi giovani hanno scarsa difficoltà a mantenere la concentrazione, rielaborare personalmente e criticamente alcuni aspetti dell'ambito didattico. Questo aspetto è molto ampio ed è, ripeto, forse condizionato dal mittente, vale a dire condizionato dal migrante digitale che vede con i suoi occhi e con i suoi schemi quelli che sono invece gli attributi dei cosiddetti nativi digitali. Ora, perché tutto questo? Perché nella scuola, soprattutto negli ultimi 5-10 anni, si è posto, all'inizio in maniera più disorganizzata, negli ultimi anni in maniera più coerente, il problema di come gestire i nativi digitali. La sfida dei docenti, di qualunque ordine di scuola, è quella di saper gestire questo nuovo modo di avvicinarsi ai contenuti, questi nuovi modelli cognitivi, quindi dei cosiddetti nativi digitali, con la consapevolezza del fatto che i formatori oggi, insegnanti, docenti, hanno avuto per lo più una formazione completamente diversa. Quindi in classe, a voler semplificare, ci troviamo di fronte a mondi a volte molto diversi, quello di un nativo digitale, quello di un migrante digitale che a volte fatica a gestire le nuove tecnologie. Non c'è naturalmente una soluzione unica alla gestione di questo nuovo scenario. La tecnologia da sola non è assolutamente la risposta. Immettere tecnologie, hardware, nelle classi non è assolutamente la risposta. Ed è quello che è stato ingenuamente fatto da qualche anno a queste parti. Pensiamo alla grande campagna di fornitura di LIM, che è stata molto meritoria, ma che in qualche modo ha spostato il focus sull'oggetto, sull'hardware, piuttosto che non sulla pedagogia, sulla formazione. Non esiste una risposta, non esiste uno strumento che risponda, esiste uno scenario nuovo, che è l'ambiente di apprendimento, nel quale occorre raccogliere questa sfida, quella dei nativi digitali, e cercare di rispondere in maniera diversa, diversificata, anche naturalmente includendo le nuove tecnologie, come per esempio la LIM. Grazie.